Il collettivo si è allontanato di sua spontanea volontà. E in occasione della Fiera Host 2013, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi ha presentato uno studio sui consumi degli italiani tra bar e ristoranti. Cresce il numero di persone che taglia sulla pausa pranzo, mentre è sempre in voga la colazione al bar. A quella gli italiani e i milanesi non vogliono rinunciare. La crisi cambia i consumi degli italiani anche al bar e nei ristoranti, ma non l'abitudine di iniziare la giornata con cappuccio e brioche al bancone. Secondo lo studio presentato dalla Federazione dei Pubblici Esercizi in vista dell'apertura della Fiera Host 2013, che si terrà a Milano dal 18 al 23 ottobre, la spesa alimentare tra bar e ristoranti è pari a 73 miliardi di euro, il 35% del totale della spesa alimentare nella penisola. Gli italiani non rinunciano alla colazione, ma tagliano sulla pausa pranzo. Negli ultimi 5 anni il consumo a mezzogiorno si è ridotto drasticamente, 204 mila persone non entrano più al bar per mangiare. Insomma è il trionfo della schiscetta. Un calo compensato dalla cena al ristorante o in pizzeria, un italiano su tre infatti si concede ancora almeno un'uscita a settimana. C'era una diminuzione della pausa pranzo per i fenomeni che dicevamo e certamente anche per la crisi. Oggi la pausa pranzo interessa circa 14 milioni di consumatori, sviluppando poi un volume d'affare, comunque sempre significativo, perché parliamo di 12 miliardi di euro. L'Italia resta comunque ai vertici per la spesa pro capite legata alla ristorazione. In media ogni cittadino spende 1200 euro l'anno, il 32% in più dei francesi, il 53% in più dei tedeschi. Nonostante questo i dati per il 2013 non sono confortanti. È un momento di grande difficoltà per il settore e la crisi pesa anche sul nostro settore, è meno 2.5 il calo infatturato del 2012, 1.3 meno l'atteso per il 2013.